salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di borderland 3 benissimo andiamo pure a vedere 2% fatto mi fa piacere cosa ci nasconde tutto questo posto che per me è nuovo ok io proverei a vendere un po di cose che cavolo io venderei queste basse con 12 dove arriviamo scusate questa non la userò mai e queste qui vediamo sì sì rilassati però ok 29 26 13 la vendiamo 13 la vendiamo questa mi serve che c'è solo quelle siamo posti non è tanto problema ok cos'è non lo so diamo un po vai aperto grazie e niente io andrei avanti o ma c'è qualcosa è una cazza di bomba perché esplode ma quegli sfigati dei miei avvocati dicono che non si possono vendere sposi etichettati come condimenti quindi abbiamo dovuto ritirarla dal mercato riesce a crederci parco cazzo ti elego ufficialmente geniere di salsa bombe fai saltare tutte le bottiglie che trovi qui torg passo e chiudo cazzo ottimo lavoro cacciatore grazie a te la torg è leggermente meno denunciabile che è ficata è sempre molto così lui e non ci facciamo niente ok andiamo e siamo a postolo fare a botte con me non dovevi qualcun altro vuole provarci ok penso che mi perderò tanto in sto posto proprio tanto tanto diamo un po se c'è qualcosa di buono non c'è un cazzo devo via posso alzarmi non posso alzarmi eh andiamo a piano ci devo fare diamo un po ok adesso potrei alzarmi ok grazie qui dice che c'è qualcosa effettivamente c'è diamo un po ok altro ok possiamo vedere non c'è un cazzo c'è un cazzo c'è un cazzo soldi e non c'è un cazzo soldi ok wow questo posto è infestato dai rech visci di mostriciattoli quanto li odio falli fuori tutti ah ok boxy potete non ordinarmi sempre di fare cose grazie allora adesso vado eh porca vacca c'è un sacco di roba ok oh porca vacca ah pensavo fossero cose diverse non così ma comunque li ho ammazzati dai diamo un po grazie ah beh pensavo fossero quelli non quelli giganti insomma questi sono un po grandi secondo me però insomma il mio personale no no aspetta che schifezza mi sono tutto zaccherato ok direi che questo possiamo anche andare insomma che senso non è così importante oh perché proprio a me arrivo eh arrivo subito arrivo subito ok vai grazie ok vediamo un po possiamo cominciare vuoi fare di meglio eccoci qua e questo è andato poi però ce n'è di gente mi state divertendo io ho bastante diciamo di sì dai ok chi altro c'è tanta gente ok perfetto altri in teoria sì adesso vado anche ecco qua vai è andata è andata porca macca ne arrivano altri vedo vedo cose nella minimappa certo che bisogna stare proprio attenti a sto gioco eccolo qua eh ah vengono fuori dalle fettute pareti accident 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 ok ma ci ho preso che quello altri ok io devo fare qualcosa qua e lo vorrei fare che dovrebbe essere qui in alto in alto quindi adesso andiamo a prendere un po' di roba ma d'ora quanta roba c'è da prendere vorrei salire ragazzi sali ragazzi dovrebbe essere qui qua non me ne ha capito dove cosa devo prendere dove devo andare allora trova la fonte di energia aspettate va se no questi rompono i marroni e quelle tane di recce come le superiamo con le sostanze chimiche giuste quelle tane si scioglieranno come neve è possibile bruciare tutto con un po' di chimica però lei si è fomentata eh quindi devo andare di qua va bene sto pensando ma ok ok grazie vai aprita vai ed ecco qua ok ovviamente ne è arrivata alta di gente perché insomma ce n'era poca fino a prima ecco qua perfetto ottimo e quindi devo andare di là vediamo se qui possiamo prendere qualcosa poche niente soldi questo è più importante e poi andiamo di qua vabbè è stato facile non sai proprio quando arrenderti vero? e allora sarò costretto a fare sul serio non preoccuparti qualsiasi cosa faccia non è niente che tu non possa sconfiggere ora che siamo entrati dovrai riuscire ad accedere al sistema di teletrasporto del nucleo posso passare oltre quel campo di forza e spegnerlo manualmente ma grazie ok la neutralizzo avvio disattivazioni campo di forza e mi sa che ci vorrà un po' di tempo oh porca troia ehi 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 ma che cazzo cacciatore? un aiutino? ecco me freddy aiuto? viola questo affare fai qualcosa oh ma l'ho appena fatto timoti e tu stai per andare direttamente da bel faccino bel faccino fantastico bel faccino mi ha fatto un'offerta che non potevo rifiutare senza rancore? ah 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 che voglio prendere in giro certo che ci sarà del rancore solo un idiota si fiderebbe di un umano e io sono un umano il che fa di te un idiota ma se chiudo strunzone me la paghi la cara porca vaca come cazzo facciamo sapere che non te la caverai così facilmente freddy soprattutto vestito così che diavolo sta succedendo laggiù? quel pazzoide ci ha traditi sta portando timoti da bel faccino figlio di puttana già disattivazione campo di forza completata ah meno male ok ti sembrerò spietata ma tim ha fatto quello per cui ci serviva non ci resta che continuare a seguire il piano trova la fonte di energia di questo quartiere e spegni tutto si ci penso io non ho capito ci ha tradito o non ci ha tradito? rilevo la presenza di un sacco di caricatori guardati le chiappe questa è una cannonata ora te la do io aspetta ok io non ho capito un cazzo se è quello che voleva lei o no però comunque sia adesso noi usiamo i punti eeeh uff allora quando Amara applica effetto no quando un nemico fa scaricare no quando Amara congela un nemico ottiene velocità di movimento potrebbe essere buono ma infine dargli bonus in base all'elemento sincronizzato ogni volta che infligge danno di corpo a corpo no quando Amara uccide un nemico con un attacco corpo a corpo diminisce un best che attacca di corpo a corpo all'oltre i marroni e qui non posso arrivarci quando Amara uccide un nemico con un danno corpo a corpo tutto corpo a corpo questo qui abbiamo capito uccidendo un nemico Amara guadagna una carica di impeto usala l'abilità azione no questo qui la velocità di ricarica direi che ha vinto ok oh porca troia oh porca troia dove cazzo mi sono andato a filare scusate fate una cacata e l'opacata come il mio solito ok devo andare qua e da di qua devo andare arrivo eh ecco qui guarda questo di granata mi piace? ok perfettico si è questo oh porca bacca oh porca bacca ah ok si ecco qua molto piacevole devo ammetterlo ok 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 eh mi dispiace insomma si ok oppla eh non lo so nervosa terminazione chi è? ok posto oh salve parassita adesso che timoti è qui con me possiamo cominciare a divertirci avresti dovuto accettare il mio accordo cacciatore avresti dovuto accettare ora se mi perdoni ho un timoti da fare a pezzi fantastico vediamo se c'è immoralo e continuo ad avanzare dovresti trovare un ascensore che porta dritto al tuo obiettivo ok intanto vediamo se trovo un po' di munizioni perché ne avrei bisogno vediamo un po' un pochino non tante però un pochino avrei bisogno vediamo cosa c'è qui di buono niente eh ma non desisto eh non demordo ci sarà un sicuro delle munizioni per me perfetto soldi che comunque fanno sempre comodo munizioni vai 75 adesso ci siamo quasi è dove siamo entrati sì devo trovare un ascensore andiamo un po' se lo troviamo e poi andiamo scusate ma per me è tutto nuovo quindi avete un attimo di pazienza ce la faccio eh eh in teoria di sotto qua andiamo un po' ok eh in teoria qui ok fatemi vedere se c'è qualcosa eh perché un po' un po' di munizioni non è che mi facessero farebbero schifo e se c'è qualcosa magari di interessante oh ha suonato cazzo ha suonato però niente di eclatante andiamo un po' siamo a 75 non è tanto eh mi toccherà accontentarmi a sto punto speriamo qua se no andiamo con 75 o altre pistole cioè o altre armi nel senso e niente andiamo un po' qua 75 ancora non le trovo ci dici strano che il fucile a pompa di solito è una cosa che si trova sempre molto facilmente vabbè pazienza andiamo e niente ok ottimo 91 ce l'abbiamo fatta dai da 75 91 mi va bene 99 siamo a cavallo perfetto andiamo pure 99 99 dai siamo sempre i soliti ecco qua poverino ecco l'idea è questa timmy ora vedi di aprire quest'affario prendo la sega ah bene ok siamo messi bene 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 questi non ho capito come romperli capirò quando sarà tardi ok ok andata vedremo oh cazzo disattivazione disattivazione ascensore di accesso al nucleo e adesso merda ci sei quasi salta dove dimmi dove però salta dove ok salta giù meno malo oh porca vacca ok siamo pieni 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 sono felice 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 e adesso facciamo l'ultimo e poi andiamo a fare il culo a chiunque lui sia 131 abbiamo un sacco di soldi che li spenderemo tutti eh mi fa piacere insomma mi ci sto già abituato ok ce li ho adesso ve li uso no chi è chi è vedo qualcuno sento qualcuno eccoli qui mi ha detto stronzo mi ha detto stronzo ok facciamo la finita in fretta ok perfettico andiamo pure giusto per cambiare un po' arma sono sempre la stessa dai mi fa piacere me la saluti ok eh eh capita insomma ok si ti piacerebbe adesso te lo stermino negozio negozio preparazione un massacro totale non mi fermerai punto avversario non mi fermerai morto ok perfettico io direi che possiamo andare tutto di cappello a jack casino fuori fabbrica di morte dentro quel tizio aveva piani su piani su piani di riserva con una mano li abbagli con il lusso e la goduria più sfrenati mentre nell'altra impugni un coltello e quel coltello adesso è tutto mio è esattamente quello che temevo dobbiamo togliere l'alimentazione a quelle torrette ma bisognerà interrompere la produzione se vogliamo sperare di fermare bel faccino interessante ok la porcarà ho caduto rimanere immobili fino al termine della procedura di eliminazione si si interessante eccoci qua la scintilla si spegne io ti maledico dissipatori insufficienti capolino pesante prendiamo di si addio interessante efficace in combattimento state morte eh in effetti allora come ci arrivo lì fatemi vedere sarà facile sono cioè secondo me c'ero vicino prima si faceva da qua sopra secondo me però così la butto là non ne sono sicuro eh però tanto sicuramente da sopra si fa ok da qua no secondo me da qua provo eh poi dopo se faccio una caccata scusate insomma non è che è una cosa così si fa eh si fa però devo prendere proprio il tempo esatto tanto si hanno messo i cordi a saltare probabilmente eh ho sbagliato ancora porca vacca mi sbatto adesso provo l'ultima volta privato se no viene noio dai mi dispiace dopo purtroppo ce l'ho fatta vale ci siamo a posto aspettiamo sì vedo l'anima di un vero artist brillare dentro di te ma dobbiamo dimostrare a bel facino che ogni performance ha il suo ehi senti ti direi che mi dispiace ma sarebbe una bugia ora comanda bel facino e devo dire che le sue proposte sono difficili da rifiutare in sostanza addio per sempre certo Adesso io li ammazzo E beh 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 Salve Una volta mi ricordo che era qua il punto debole Direi di sì Direi che è data bene Sì sì adesso Ti finisco Ok Piano piano si fa tutto Dai non vi preoccupate insomma sì Opla Vediamo che è rimasto Io lancio questo lancio Eh capita insomma sì Ok Andiamo a vedere gli ultimi che ci sono E poi Capolinea Oh tu sei ancora vivo Ok Oh porca bacca Siamo scattato Scazzettone da panico proprio Granata in volo Sì sì vola questo vola Sistemi di puntamento C'è una strage catetanica proprio Perfetto Altri Direi che siamo a cavallo Voi cosa dite Guarda mia poverina Ci hai fatto malo Eh Quindi dobbiamo andare di qua Beh è facile Dai Ok Vediamo se qui c'è qualcosa di buono E adesso ci salutiamo Dai facciamo così Così a me nel prossimo episodio Andiamo andando un po' più avanti Quindi ragazzi come saluto il video Vado a lasciare un commento Se mi piace il serie Fammi sapere cosa ne pensate Però adesso Vado a saluto Grazie a tutti Ciao ciao